70.000 nuovi alberi sul territorio metropolitano. 5 i progetti di città metropolitana approvati dal Ministero dell'Ambiente e finanziati sul bando forestazione. 1. Avigliana, Collegno, Volpiano. 2. Moncaglieri, Nonne, Orbassano, Pio Sasco, Rivalta di Torino. 3. Aree protette del Popiemontese, aree protette dei parchi reali. 4. Settimo Torinese, Veneria Reale, Mappano. 5. Torino, Chieri e Areasmat. Riforestazione e manutenzione per i primi sette anni. Grazie.